Ciao, io sono Elgazi e questo è il canale di Elgazi. Qui troverete contenuti legati al visual design e alla creatività. Ogni giovedì alle 7 siamo in live con un podcast dove intervistiamo i protagonisti dei più bei progetti in Italia e nel mondo. Vi aspettiamo, iscrivetevi alla community e ogni giovedì siamo qui in live. Iscriviti. Ciao. Ciao.